buongiorno benvenuti a questa video analisi del 16 novembre 2016 video analisi del sorriso sapete mi piace chiamarla così perché cerco di parlare di mercati in maniera più leggera materie che sembrano solitamente pesanti e non solo del sorriso mi piace anche utilizzare la musica sono un grande appassionato di musica e ho trovato per voi quella che è quello che è il ritmo che sta seguendo il dollaro le note su cui sta danzando il dollaro da quando è arrivato trump il più chi insomma una band c'è qualcosa che non so se già ne hanno parlato in televisione però insomma non potevo non farvi sentire questo questa canzone questa è la canzone super tramp super tramp insomma poi la pronuncia band inglese anni settanta super tramp dai non potevo proprio non l'attinenza poi la canzone goodbye stranger tanti saluti allo straniero davvero troppo 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 si incastra bene azzeccata indovinata con quello che stiamo vivendo con l'avvento di trump nuovamente benvenuti a questa video analisi forex è un dollaro che sta facendo tanta strada al rialzo lo vedete già lì nei confronti della moneta nostra moneta euro 10751 non l'ha visto per nulla adesso il prossimo obiettivo cambia anche inquadrature come sempre mi raccomando mettete a schermo intero così potete vedere meglio apprezzare meglio i vari livelli qui a sinistra sono scritti resistenze e supporti care signore e signori 105 è in vista questo momento siamo sotto 107 107 quindi si va verso quello che è il supporto il livello di cui oramai ne ho parlato tantissime volte vedete in giallo sotto man mano che passo col mouse lo vedete lì in fondo lì in fondo c'è dicembre scritta una data dicembre 2015 un anno fa l'euro contro dollaro era lì poi 16 dicembre rialzo dei tassi in america è salito l'euro poi è ritornato a salire 1 e 16 siamo ritornati nuovamente a quel livello dollaro franco svizzero sopra la parità e idem qui eravamo dicembre vedete fine novembre dicembre sotto col mouse man mano che passo è superata la parità prossimo livello 103 105 euro dollaro 103 e attenzione perché con quello che intende fare trump potrebbe fare anche molto molto più strada soprattutto a livello euro dove abbiamo una banca americana la federal reserve che vuole alzare i tassi interesse probabilmente lo fare 14 dicembre per via anche di quello che intende fare lo stesso trump super trump dove crescita inflazione spesa pubblica taglio delle tasse se le farà perché tra il dire il fare cioè di mezzo trump mi piace anche questo nuovo motto e quindi rialzo dei tassi potrebbe essere molto più aggressivo anche se proprio ieri ci sono state tante 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 dichiarazioni di membri della fed che stanno dicendo che comunque la politica monetaria l'outlook resta invariato anche con l'elezione di trump poco ci credo che vanno avanti in quello che il loro discorso rialzo graduale dei tassi comunque insomma vedremo vedremo davvero stiamo vedendo volete vedere il dollaro yen guardiamo il dollaro yen dove è arrivato 109 guardate come in alto quasi quasi qui 109 109 il livello che era qua in area 107 vedete il bello dei grafici e chi nasce anche questo che qui verso questa resistenza da queste parti dove con candela rossa e chi nasce c'era stato tutto questo capitombolo questo venir giù questa volta il grafico e chi nasce mi ha detto attento renato questa volta no qui non c'è da speculare al ribasso verde 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 green c'è un altro livello da monitorare adesso qualcosina qui un ex supporto verso i 110 poi le cifre tonde anche chiamate soglie psicologiche 110 111 82 ma ora come ora c'è una bella corsa anche perché proprio lo stesso trump sarà domani riceve il primo ministro giapponese la prima visita ufficiale quindi intende allacciare dei buoni rapporti sembra almeno queste le intenzioni anche perché nella squadra nel team quello che di governo probabilmente che verrà formulato poi speriamo annunciato più presto c'è proprio uno dei ministri che ha ottimi rapporti col giappone quindi insomma dollaro yen siccome correlato positivamente con wall street l'indice nick di tokyo sappiamo tutti che stanno godendo di un momento molto molto positivo sale al rialzo attenzione perché il petrolio invece che veniva da una rottura di un supporto 43 41 subito cambiato il thread nuovamente candela verde questa è riferita a ieri perché un grafico daily giornaliero aggiornato a ieri quelli forex sono in tempo reale e comunque già abbiamo tutti gli elementi che ci dicono candela verde supporto 43 41 e riprende praticamente il discorso speculazione in vista del meeting opec 30 novembre dove devono ratificare mettere per iscritto nero su bianco gli accordi presi in algeria a fine settembre e guardate tutto quello che era stato il movimento precedente agli accordi e vedete proprio lì con quello che è stato trovato scusate il pre accordo salutato favorevolmente dal mercato perché un'impresa mettere d'accordo cani e gatti poi è tutto ritornato giù perché sono emersi le divisioni la russia che dice più che taglio vogliamo un congelamento l'iran dice noi dobbiamo essere esenti dalle quote perché si vuole andare verso una distribuzione delle quote a seconda della produzione eccetera eccetera e poi altri paesi libia che hanno dei problemi interni insomma non lo so è dura è dura fatto sta che il mercato sembra voler speculare adesso al rialzo chissà che poi non arrivi nuovamente a 51 68 e se effettivamente ci sarà l'accordo magari anche più in alto mentre il gold anche qui un grafico aggiornato alla seduta di ieri sempre più vicino al supporto 1207 dollari e non per il momento la candela resta abbastanza estesa rossa e chi nasce non dà segnali di una possibile inversione ricordate gold dollar yen la correlazione tra i due fantastica in questo 2016 eccola qui vedete si stanno nuovamente allontanando vediamo se con l'altra inquadratura si vede anche meglio praticamente stanno vanno in direzioni opposte correlazione quindi in questo caso negativa dollar yen che sta spingendo adesso al rialzo il gold invece al ribasso più si avvicinano e più siamo in un contesto di risk on propensione al rischio perché il gold è visto come bene rifugio dove quando non ci sono ci sono belle storie in giro insomma vendite sull'azionario ci si rifugia al gold dollar yen come già detto prima correlazione positiva con wall street l'azionario con l'indice nikki quindi più gold dollar yen in basso sale e gold scende vuol dire che i mercati asset equiti sono contenti sono tutti contenti felici a wall street quindi prosegue questa correlazione inversa troviamo torniamo alla visualizzazione precedente attenzione perché si stanno vedendo petrolio quindi abbiamo visto possibile inversione con la candela verde il mercato lo strumento con cui è correlato inversamente solitamente se scende uno sale l'altro e usd cad che sta disegnando però bisogna aspettare la conferma la chiusura quindi di questa sera una possibile possibile candela rosa e chinash che si va nuovamente allineare con oil perché sono come detto prima correlati inversamente sale uno scende l'altro quindi conferma quello che stiamo vedendo il trend possibile al rialzo sul petrolio stona invece ma probabilmente più legato a un fatto super dollaro l'andamento super trump super dollaro dell'australiano questi dovrebbero in teoria seguire da vicino l'andamento del petrolio in materie prime in genere però metà le prime vediamo che gold non è proprio delineato il quadro le varie spaccettature in maniera perfetta e quindi le vendite sono imponenti vediamo che l'australiano da quando si è formata questa candela rossa lo scorso 9 novembre dalla resistenza 0 77 45 siamo sul livello 0 74 vedete scritto qua 74 e 64 in caso di rottura quel livello ce n'è di strada da fare il prossimo 71 0 71 86 idem per il neozelandese che sta correggendo dalla resistenza 0 73 69 siamo sul livello 0 70 45 fermi però se compare una candela verde chi nasce che non significa neanche garanzia di successo al 100 per cento che effettivamente il mercato possa invertire cambiare il trend puntare a nord del grafico si torna si guarda ancora giù piuttosto che su l'altro livello da monitorare se 0 69 62 se anche quello dovesse buttarlo giù 0 66 97 quindi effetti di un super dollaro si vedono anche qui perché se nzd o audi usd sale il dollaro scende perché il dollaro è a destra quando invece dollaro a sinistra come ho fatto vedere per esempio il dollaro franco svizzero vediamo questo tappeto verde ai kinashi attenzione alla sterlina giusto a titolo di cronaca riferisco di questa candela rossa su una possibile resistenza in area 1 25 98 1 26 ma qui siamo come per il petrolio all'interno di una fortissima speculazione sapete benissimo dopo il pronunciamento dell'alta corte di giustizia la corte suprema si riunisce a inizio dicembre verdetto 2017 ieri il times ha traparato un'antizia che la mei non ha nessun piano praticamente ancora pronto la merkel pure sta dicendo insomma cara teresa mei quando ci farai sapere che cosa intendi fare quindi una situazione anche lì abbastanza delicata state attenti ieri carni ha detto ha ribadito il concetto che i tassi potrebbero salire tassi interesse uk sia verso l'alto che verso il basso insomma per il momento magari meglio così non guardare quella che è la sterlina insomma queste tante 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 come sempre tante situazioni interessanti offre il mercato del forex e vi saluto ancora una volta con sperando che poi youtube non mi vada a censurare insomma il copyright però vediamo insomma non si può le note su cui sta danzando il dollaro super trump non si può le note su cui sta giugge rumore ma grazie